Favoloso, peccato che non fate il tempo perché è a Rocca di Papa, inizia adesso un concerto dei Rocky Bulldozer e non li conoscete ma lo dico specialmente per il pubblico femminile sono 5 giovanotti palestrati sfogliarellisti che suonano anche molto bene quindi mi dispiace che non possiate vedere, stasera vi beccate noi, però immaginatevi vi facciamo ascoltare un primo brano di gruppo italo-americano Dion De Belmonds, Dion Di Mucci, Carlo Mastrangelo, Angelo D'Aleo e Fred Di Milano un brano scritto da Dion Di Mucci e Ernest Maresca, quindi sono proprio tutti italo-americani nel 1958, quindi io vorrei che voi adesso chiudeste gli occhi e non immaginatevi il 2018 bensì il 1958, non immaginatevi qui in San Paolo, non immaginatevi il Bronx, non immaginatevi Roma, non immaginatevi New York, ma soprattutto non immaginatevi noi, ma bensì Rocky Bulldozer I wonder why